Nella sede della città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra, si è svolto il seminario di lancio di Vale, valore all'esperienza. Un progetto trasfrontaliero che coinvolge i territori di Torino e Nizza. L'obiettivo è di cogliere le prospettive di sviluppo e le esigenze del settore della pasticceria e della gelateria in Piemonte e in Costa Azzurra. I partner del progetto sono il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, la città metropolitana di Torino, la scuola Malva Arnaldi di Bibiana e il Gruppo Mondo Antirepibli per la formazione e l'insersione professionelle di Nizza. Il progetto prevede sei percorsi formativi destinati a 90 giovani e adulti, suddivisi fra il versante italiano e il versante francese. L'obiettivo di fondo che abbiamo e che abbiamo condiviso con i giovani è di lavorare non solo su un prodotto ma su un processo e su una cultura della gelateria e della pasticceria. Intanto sicuramente i giovani chiedono lavoro, però noi vorremmo un lavoro qualificato che può durare nel tempo, che può diventare un lavoro anche mettersi in proprio, quindi avviare delle attività e diffondere una cultura, che è quella italiana, della qualità del prodotto. I giovani che vogliono intraprendere una loro attività in campo di trasformazione del cibo, oggi su queste persone si vede l'esigenza di avere una cultura più alta, una cultura di prodotto, una conoscenza delle filiere, una conoscenza anche della storia, della cultura del cibo che ritengono oggi indispensabile per affrontare un po' la concorrenza che è molta in questo settore. La città metropolitana mette a disposizione il servizio di accompagnamento alla creazione d'impresa, MIP mettersi in proprio. Noi stiamo continuando a ricevere sempre domande, la nostra attività consulenziale è sempre più forte, il MIP lo si conosce. Giovani e meno giovani, chi per innata voglia imprenditoriale e chi perché costretto comunque si presenta nei nostri centri e soprattutto in città metropolitana per chiedere quell'attività consulenziale che gli permetta di creare un'attività imprenditoriale sul nostro territorio. Noi ci inseriamo in questo progetto di formazione che è da un lato molto innovativo perché riconosce delle competenze proprie delle persone e molto legato alle produzioni tipiche, alle risorse del territorio affiancando questo percorso di formazione con un'attività propria di accompagnamento alla creazione d'impresa. Quindi questi ragazzi che avranno la possibilità di avere una formazione innovativa avranno anche una formazione specifica sull'avvio di impresa legato al territorio e alle produzioni tipiche locali.